Ci siamo interrogati a lungo ieri su quale fosse la foto migliore per rendere l'idea di quello che stava accadendo in Ucraina. Abbiamo scelto questa foto che ora vi mostro, una foto durissima nella quale si vede ancora una volta una vittima violata dalle bombe russe sul terreno, in mezzo a esplosioni, fuochi, pompieri, c'è quest'uomo ormai caduto sotto i colpi del bombardamento di Mosca. È una foto che farà discutere, come sempre succede in questi casi, perché mostra l'orrore della guerra e noi di fronte all'orrore della guerra non vogliamo ritrarci perché cerchiamo di rendere manifesta tutto quello che la guerra rappresenta, uno scandalo etico morale che fa vittime soprattutto tra i civili e dunque la sprezza e anche la durezza, la crudezza di queste immagini devono smuovere le nostre coscienze, le coscienze di tutti. Non possiamo restare inerti e anche se questa foto è scioccante o forse proprio perché questa foto è scioccante dobbiamo mobilitarci tutti per dire no alla guerra in ogni modo possibile.